Seconda edizione dell'iniziativa Legalità e Sport scendono in campo, nel parco di Villa Capriccio a Capodimonte. Per tutta la mattinata gli atleti delle forze armate di pugilato, scherma ed equitazione hanno lavorato con bambini e ragazzi delle scuole per promuovere la disciplina sportiva. L'iniziativa è partita da Ponticelli il 30 aprile in collaborazione con l'Ufficio Cooperazione Decentrata del Comune. Siamo partiti da Ponticelli, questa è la seconda tappa e la porteremo in tutte le municipalità, proprio per sensibilizzare gli alunni e per far vivere i parchi cittadini. Noi ci teniamo a lavorare con le scuole perché è proprio la pasta che deve essere modellata, sono il nostro futuro, il nostro presente e il nostro futuro. Organizzata dal Comune di Napoli con la Municipalità Stella San Carlo all'Arena, la manifestazione ha coinvolto polizia di Stato, carabinieri, vigili del fuoco, esercito aeronautica, marina militare, capitaneria di porto e polizia locale. Lo sport non è solo quelle immagini di violenza che certe volte il calcio ultimamente ci ha consegnato, ma lo sport penso sia una delle cose più belle della nostra vita e anche della nostra città. Questa è una bella cosa organizzata dal Comune, il referente per la legalità, le istituzioni e le scuole. L'obiettivo è che i parchi siano sempre di più e aperti, questo è un parco della Municipalità che in condizioni difficili cercano di fare il meglio, così cerchiamo di fare anche noi. Il bilancio degli ultimi tre anni è un aumento dei parchi rispetto a quelli ereditati con pochissimi soldi, quindi fanno bene i cittadini a chiedere più parchi perché è un pungolo importante, il lavoro a cui dobbiamo tendere e invito anche tutti i cittadini a contribuire a tenere i parchi aperti, puliti e vivi.